Il 2022 per CPL è stato un anno pieno di sfide. Il 2022 è stato un anno diciamo sulle montagne russe, un anno molto complicato per tutta una serie di fattori esogeni che CPL come tutte le altre imprese ha subito, ma è un anno che anche ci ha fatto imparare tanto e ci ha consentito di chiudere direi bene, molto bene, riassumendo un anno complicato ma anche di grandi soddisfazioni. Un anno in cui la sostenibilità è stata messa al centro. CPL Concordia ha i suoi valori, ha diverse attitudini che la collegano alla sostenibilità. Questo ovviamente ci agevola anche da un punto di vista valoriale nel portare avanti tutta una serie di progetti. Nel 2022 è stato inaugurato un progetto strategico di sostenibilità che mira a portare l'azienda nel 2025 ad integrare il bilancio di sostenibilità a quello economico. Le iniziative collegate a questo sono diverse, da quelle ambientali a quelle sociali, a tutti quelli che sono obiettivi che come azienda ci siamo dati per la governance, l'ambiente e il sociale. La sfida del 2023 sarà quindi coniugare crescita e sostenibilità. Il 2023 sarà un anno importante perché vogliamo consolidare la crescita legata all'opportunità di nuovi business, sempre legato al mondo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale. E' un anno importante per i nostri 125 anni, nati nel 1899.